ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video scusatemi ma stavo prendendo le uova delle mie galline sulla loro casetta e niente volevo fare questo video cercando di capire appunto cos'è l'elettrocultura infatti se andate sulla descrizione del mio canale youtube potete capire che io sono appassionato di elettrocultura tra l'altro non solo su youtube ma sia su instagram che su facebook sto cercando di divulgare questa questa disciplina per cercare di farla conoscere di farla conoscere il più possibile perciò se non mi state ancora seguendo sugli altri social seguitemi che ogni tanto ha posto qualcosa di interessante oltre a qualche evento che sto tenendo qui nel tra veneto e friuli o comunque nel triveneto andando sullo specifico oggi volevo che probabilmente questo video qua sarebbe stato meglio farlo come primo video registrarlo come primo video però vabbè è andata un po così insomma cerchiamo di fare il possibile volevo farvi capire che cos'è l'elettrocultura dopo tutte le mie tutti i miei vari studi che ho che ho fatto infatti io sono diplomato dell'accademia di agricoltura vibrazionale energetica con i docenti andrea donnoli e tiziano guerzoni andrea donnoli è quello che come dico io di solito un po ha riportato l'elettrocultura in italia e tiziano guerzoni invece è un po il nostro maestro di radioestesia geobiologia e delle energie un po in generale che abbiamo quindi dopo aver intrapreso questo questo percorso molti molti amici mi hanno chiesto ma scusa un attimo ma che cos'è l'elettrocultura e allora è un po al succo di questo video ora adesso vi metterò una slide per capire un po meglio possiamo vedere che la dizionario la parola elettrocultura è l'applicazione dell'energia elettrica all'agricoltura per migliorare e aumentare la produzione dei vegetali è interessante puoi vedere nel grafico subito sotto che la diffusione di questa parola ha incominciato un po a diffondersi agli inizi del 1800 fino ad arrivare ad un picco nel 1932 dove in quegli anni c'era un certo justin etienne christophe lo che è un inventore francese che ha praticamente brevettato 16 dispositivi di elettrocultura perciò in quegli anni perciò tra la prima e la seconda guerra mondiale era molto diffuso questa questa tecnica erano delle persone che cercavano di sperimentare queste cose insomma su justin etienne christophe lo eventualmente se magari o ne avete sentito parlare o se siete curiosi magari scrivetemi nei commenti se vi può interessare un video dedicato a questo a questo scienziato in un certo senso che è stato colui che praticamente appunto era un francese che ha inventato un po il bimbi dell'epoca perché era figlio di panettieri e ha sempre cercato di migliorare un po la vita e il lavoro dei suoi genitori perciò con le sue scoperte uno dei dispositivi che ha venduto di più all'epoca appunto era questo impastatore automatico e oltre a quello brevettato veramente molte molte cose eventualmente come vi dicevo se siete interessati vi posso fare un video specifico su justin etienne tornando alla storia nel 1932 c'è stato un po un picco della diffusione di questa di questa parola e dopo il grafico scende fino a praticamente subito dopo la seconda guerra mondiale il questo questo vocabolo pian piano ha incominciato a non essere più utilizzato infatti si è andato un po a perdere tutte le varie tecnologie e tutte le varie scoperte che si erano fatte fino a quel tempo esistono due approcci in elettricoltura uno è quello utilizzando l'energia elettrica continua o alternata perciò dell'energia creata dall'uomo in questo in questo frangente in questo caso ci sono moltissimi ettari coltivati sia in cina ma anche in nord e in sud america eventualmente vi lascio qui in descrizione un link su un articolo che appunto parla di coltivazioni coltivati con questo tipo di energie create dall'uomo mentre il secondo approccio è quello che utilizza le energie naturali ed è quello che un po utilizzo io e quello che a me piace di più e che è stato mi è stato insegnato da appunto da andrea donnelli che è un po il mio maestro in in questo caso questo sistema di elettricoltura con le energie naturali è stato scoperto un po per caso da un abate questo abate si chiamava abate toaldo che era un docente di astronomia all'università di padova nel 1762 questo abate e andava a studiare gli effetti dell'elettricità atmosferica sugli edifici e come riuscire in un certo senso a proteggere gli edifici da questa da questa elettricità ma com'è che ha fatto a scoprire queste cose praticamente a quell'epoca appunto c'erano i campanili come ci sono adesso e questi campanili avevano appunto una punta questa punta era collegata con una messa a terra collegata al terreno praticamente aveva scoperto che le piante che erano vicine vicine a questo a questa messa a terra che arrivava appunto da un campanile che comunque è molto alto penso ci sono molti metri e perciò molta differenza di potenziale tra il cielo e la terra aveva notato che le piante che dimoravano al vicino a questo a questo picchetto se possiamo chiamarlo così erano molto più forti molto più grandi e producevano molto molto di più di conseguenza no dall'in poi si è incominciato appunto a sperimentare dopo queste scoperte dell'abate toaldo fino ad arrivare appunto agli anni del 1900 dove justin etienne cristoflò il papà dell'elettrocultura appunto ha brevettato 16 brevetti come vi dicevo prima poi quando jack noi lo chiamiamo così è morto appunto a metà circa del del 1900 pian piano e poi con la con la fine della seconda guerra mondiale si è andato un po appunto a non utilizzare più questa questa tecnica per la seconda guerra mondiale le multinazionali hanno avuto un po il sopravvento e poi si è utilizzato si è utilizzata molta di più molto di più la chimica perciò questa tecnica è andata un po sempre di più in disuso però fortunatamente circa diecini fa forse anche qualcosa in più andrea dononi insieme ad altri elettrocultori in giro per il mondo sono riusciti a recuperare vari documenti e vari libri e questi sono stati anche tradotti in varie lingue tra cui anche l'italiano infatti nel nostro sito che potete trovare linkato qui in descrizione questo video potete trovare molti libri tra cui alcuni di justin etienne cristoflò che sono stati tradotti con appunto i suoi brevetti che aveva fatto all'epoca e appunto oltre a vari libri e vari documenti siamo riusciti a ricostruire vari dispositivi sia di justin etienne cristoflò che di altri come per esempio questa antenna che cristoflò la chiamava antenna terro celeste noi terro celeste o cielo terra in un certo senso che praticamente questa la posizioniamo in un palo a diversi metri d'altezza per riuscire a prendere l'energia oppure per esempio altri altri dispositivi che siamo riusciti a ricostruire è il fertilizzatore tellurico sempre di justin etienne cristoflò oppure la cassa per dinamizzare i semi che appunto all'epoca justin aveva creato per riuscire a energizzare i semi prima della semina per riuscire ad avere delle piante molto più resistenti e molto più produttive rispetto al normale però oltre a questi dispositivi possiamo utilizzarne veramente moltissimi infatti diciamo sempre che le tecniche possono essere una trentina se non anche forse di più adesso volevo elencarvi qualcuna come per esempio le torri irlandesi questa è una piccola torre riprodotta con del basalto del materiale paramagnetico all'interno infatti se sentite c'è del materiale all'interno di questa di questa torretta oppure degli anelli di lakowski ok che sono degli anelli molto molto interessanti anche per quanto riguarda la singola pianta oppure se qualcuno ha un orto sul interrazzo sul balcone oppure dei fiori invaso insomma vanno molto molto bene oppure delle spirali come potrebbero essere queste qua abbinate agli anelli di lakowski questa potrebbe essere un'altra un'altra tecnica molto interessante e poi abbiamo delle antenne magnetiche o elettromagnetiche in questo caso sono delle antenne elettromagnetiche cercano di utilizzare il campo magnetico terrestre cercandolo di amplificare attraverso appunto questi questi magneti direzionati nel nel modo corretto e poi moltissimo utilizzate delle piramidi in rame mi raccomando che il materiale migliore per riuscire ad avere l'effetto migliore che servono per caricare le cose che ci stanno all'interno che possono andare dai semi prima di seminare oppure le piantine prima del trapianto le possiamo mettere all'interno oppure anche i materiali che ci possono servire nell'orto oppure dei trattamenti naturali o altre cose e noi di solito utilizziamo due misure la misura cheope ok e la misura nubiana che è quella un po più appuntita ultimo ma non ultimo è la geoterapia che è un sistema che stiamo cercando di divulgare qui nell'ultimo periodo che consiste nella portare all'interno del terreno del materiale vulcanico e non per riuscire a fertilizzare in maniera naturale e far sì che l'energia che noi andiamo a catturare a propagare si propaghi ancora meglio e forte rispetto rispetto al normale ma quindi che cos'è l'elettrocultura un po sintetizzando e riassumendo quello che abbiamo detto fino adesso l'elettrocultura come la utilizziamo noi perciò con delle energie naturali è la possibilità di andare a captare o ad amplificare delle energie che esistono già in natura che possono essere per esempio le energie telluriche con appunto un fertilizzatore tellurico oppure l'energia magnetica terrestre che è l'energia che la terra ha tra nord e sud in un certo senso con delle antenne elettromagnetiche per cercare appunto di amplificare questo segnale oppure l'energia elettrica che possiamo andare a captare nell'aria con delle antenne queste antenne poi hanno una differenza captano questa differenza di potenziale che ci può essere a 5 6 metri d'altezza rispetto al terreno e appunto le possiamo misurare con dei con dei tester in millivolt è proprio se noi andiamo a toccare da una parte il filo da una parte la terra riusciamo a visualizzare che appunto passano delle micro correnti all'interno di questi fili e le piante appunto ne possono beneficiare benissimo oltre a questo possiamo andare a lavorare con la differenza di potenziale che ci può essere tra materiali diversi tra materiali positivi e materiali negativi oppure possiamo andare a fare una sorta di agopuntura del terreno che è cosa molto simile rispetto all'agopuntura che facciamo noi umani sul sui nostri centri energetici noi andiamo praticamente a con delle bacchette da rabdomante andiamo a captare un certo segnale che viene dal dal terreno che sono delle radiazioni in un certo senso che è il terreno emana in certi punti andiamo a trovare appunto queste questi punti specifici andiamo a posizionare queste torri che riescono a sbloccare l'energia che c'è tra cielo e terra infatti di solite noi utilizziamo utilizziamo due menhir o due torri energetiche per poter per poter far questo perciò per poter fertilizzare ma anche per il benessere generale degli umani ma anche degli degli animali infatti dobbiamo ricordare che queste tecniche si possono utilizzare benissimo per come vi ho detto fino adesso per quanto riguarda le coltivazioni in generale ma possiamo andare anche a lavorare con l'elettrocoltura anche con gli animali infatti come potete vedere che prima appunto qui siamo vicino alla casetta delle mie galline io ho proprio fatto un'installazione nel mio pollaio ho fatto un'installazione che riguarda solo gli animali e possiamo appunto con più o meno le stesse tecniche possiamo andare a lavorare anche con loro che possono essere galline bovini o altri animali in generale ma alla fine alla fine quali sono i risultati che si possono ottenere grazie all'elettrocoltura i risultati che si possono ottenere sono molteplici cioè nel senso possiamo vedere che i vegetali sono più grandi con dimensioni più grandi più colorati con dei bei colori o poi che questi magari se possono essere degli effetti secondari ma poi quello che ci interessa noi è che siano sicuramente molto più buoni rispetto alla media della normalità e con moltissimi fattori nutrizionali in più rispetto al normale infatti dalle nostre prove e dalle nostre prove di laboratorio e non solo e anche ognuno a casa sua abbiamo notato proprio questa grandissima questa grandissima differenza rispetto rispetto al normale infatti adesso possiamo vedere qualche foto di risultati che abbiamo ottenuto noi o al o nostri clienti nostri corsisti o nostri amici un po in giro per tutto il mondo bene questo video spero vi sia piaciuto se avete delle domande scrivetemi qui nei commenti cosa ne pensate ed eventualmente qualche domanda io sarò lieto di rispondervi se siete curiosi di approfondire oppure appunto volete approfondire questa tecnica in descrizione c'è il link al nostro sito dove ci sono moltissimi video corsi da poter vedere per scoprire che cosa l'elettrocoltura ancora più approfonditamente e eventualmente capire come riuscire a applicarla nel vostro orto nella vostra coltivazione nella vostra azienda agricola oppure per gli animali vi lascio anche il link del mio canale telegram dove posto i vari eventi nel triveneto e non solo dal vivo dove ci sono dove che tengo praticamente e niente mettete un bel mi piace al video iscrivetevi al canale così potete supportare questa mia quasi malsana idea di portare questi video su youtube e far conoscere l'elettrocoltura a sempre più persone vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino a qua e niente ci vediamo al prossimo video buona giornata a tutti ciao ciao